Buongiorno a tutti oggi è venerdì 13 dicembre della memoria liturgica di santa lucia vergine e martire ascoltiamo il vangelo secondo matteo capitolo 11 versetti 16 al 19 in quel tempo gesù disse alla folla a chi paragonerò io questa generazione essa è simile a quei fanciulli seduti sulle piazze che si rivolgono agli altri compagni e dicono vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato abbiamo cantato un lamento e non avete pianto è venuto giovanni che non mangia e non beve e hanno detto a un demonio è venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve dicono ecco un mangione un beone amico dei pubblicani e dei peccatori ma alla sapienza è stata resa giustizia dalle sue opere ecco oggi il vangelo ci mette davanti alle nostre responsabilità per riguardo alla fede in questo avvento la liturgia infatti ci aiuta a considerare proprio la qualità della nostra fede e oggi ci racconta di come gesù si lamenta per la mancanza di coerenza della sua gente è interessante vedere che come la gente all'epoca di gesù anche oggi non c'è gente tanto diversa anche noi oggi non siamo poi così diversi io e te quando inventiamo qualche pretesto per non essere scomodati per non accogliere gli altri che ci stanno davanti con le loro esigenze del resto dobbiamo riconoscerlo è facile trovare argomenti e pretesti per rifiutare quelli che pensano in modo diverso dal nostro è facile chiudere ogni comunicazione e restare in una pace finta apparente egoistica ecco il vangelo oggi ci avverte di questo inganno in cui è possibile cadere essere in pace non è allontanarsi dagli altri o allontanare gli altri ma è fare festa con loro il testo di questo vangelo proprio ci ricorda vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato c'è gente con cui fare festa il signore ce la dà così come c'è gente con cui partecipare a sofferenze anche questo il signore ci dà il testo ci dice abbiamo cantato un lamento e non avete pianto ecco questa partecipazione ci fa crescere nella responsabilità cristiana siamo spinti da gesù oggi a lasciare ogni tipo di incoerenza ogni sorta di chiusura che ci mette nel buio che non ci fa vedere che la luce che ci attende ci chiama ma ci chiama alla vita preghiamo allora per intercessione della santa martire vergine lucia che oggi appunto ricordiamo giovane donna di luce che ha portato la luce di cristo su questa terra con la sua innocenza la sua fede il suo coraggio la sua bontà preghiamo che la luce di cristo venga anche su di noi su questa giornata di gioia che possa dissipare le tenebre del nostro cuore e darci la vera pace di dio dio desidera farci compiere lo dice il vangelo le opere della sapienza le opere che ci rendono umani vicini agli altri per poter stare con tutti anche con chi non vorremmo perché solo se cerchiamo l'altro nella sua umanità nella sua debolezza nella sua fragilità è solo così siamo messi a contatto anche noi con le nostre chiusure con le nostre durezze ci aiuti allora il signore per la preghiera di santa lucia a vedere nella fragilità dell'altro e quindi anche nelle nostre la nostra incapacità di amare per consegnarla a dio ecco ci aiuti la preghiera di questa santa martire accogliere la grazia di questo giorno di questo avvento perché possiamo metterci in cerca di dio con coerenza nella verità anche nell'umiltà per vivere insieme agli altri senza mettere scuse inutili a quell'amore santo che esige la nostra fede buona giornata e buon ricordo di santa lucia